Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Noi abbiamo parlato della pesca, la pesca con la bambina, la bambina con la pesca in mano, il mondo è nella merda e noi abbiamo discusso per giorni della pubblicità di un supermercato. Ma io dico, ma non basterebbe questo per chiudere la puntata qui, andarsene tutti a casa, abbracciare i nostri cari e aspettare che un asteroide ci confisca, dicono non basterebbe? E' finita, oggi la puntata è finita, andiamo a casa, della giornata di venerdì, venerdì scorso, Utrend ha analizzato che sui giornali si parlava più dello spot di S. Lunga che del fatto che non abbiamo una lira. Ma guardate, guardate qui, guardate qui. Ecco, bambina con pesca batte il ministro delle finanze 43-39 e i giornali ne parlano mica per colpa loro, no, per colpa nostra, siamo noi italiani che vogliamo parlare di quello. E questo che cosa vuol dire? Perché dobbiamo smetterla di lamentarci se da anni a governarci ci sono degli inadeguati cialtroni, perché sono esattamente quello che ci meritiamo noi, noi che ci siamo divisi tra lo spot è una minaccia per le famiglie non tradizionali e finalmente uno spot che parla delle famiglie normali. Senza che nessuno pensasse che quello spot invece aveva uno scopo, uno soltanto, ovvero venderci degli zucchini, farci fare la carta fidati, regalarci un dentifricio se ne compriamo altri due, solo e unicamente quello. E a tutti quelli come, ho preso questo qua a caso, è l'anonimo, Massimo su Twitter, che comunque ha 7000 follower, questo qui, e ha scritto. Grazie Selunga, spero sia l'inizio del ritorno alla normalità. Viva la famiglia tradizionale, viva le mamme e i papà. Ecco, noi a Massimo vorremmo dire solo una cosa. Si sono lasciati Massimo! Papà probabilmente si tromba alla babysitter di 19enne della bambina, mamma esce con l'insegnante di yoga, è finita. E sai Massimo, sapete com'è andata quando papà ha chiamato mamma per ringraziare della pesca, è andata così? Ciao, la bambina mi ha detto che mi hai comprato una pesca, grazie. Non l'ho comprata io, l'ha presa lei. Ma guarda, lo sapevo, lo sapevo, figurati se fai una cosa gentile. No, senti chi parla, la pesca fa la mangiare a quella stronza che girava mezza nuda per casa, impotente. Ma vaffanculo, sto mese non ti do una lira, fatti mantenere dal maestro di yoga che porti al ristorante, sto straccione. Sì, sicuro, da domani, parla solo col mio avvocato, vaffanculo tu, eh, zucca. Ecco, è finita così Massimo, devi fartene una ragione.